Siamo alla seconda serie di stacco alla terra, sono a 160 kg. Buona bocca al lù, una saluta e protezione. Grazie a tutti, a giustaggio, a postura, a postura, a postura. Tutti in due, tutti in due, se stiamo a prendere la schiena, setto, bravo, fai sotto, due, spingi, con le gambe, tira con la testa, diventa un futuro, non bilanciere, tre, sicuro con la schiena, bravo, duro con la schiena. Soprattutto senza cinture, non ne abbiamo bisogno.